Quando ho vinto lo scudetto a Recanati avevamo perso 4-0 in casa alla terza, perciò voglio dire l'unica cosa per fare una battuta. Una partita no, senza storia, poca personalità, la colpa naturalmente è solo la mia. Abbiamo giocato male, adesso dobbiamo riordinare tutte le idee e niente, complimenti alla San Benedettese e andiamo avanti. Poi naturalmente i cavalli si vedono sempre al traguardo, questo è poco ma sicuro. Mister, in diretta ho detto squadra che vince, nella mia testa ovviamente, squadra che vince di solito non si cambia. Poi ho visto Francesco Casella in conferenza venerdì, ho detto Casella torna a essere titolare, invece ha messo Alessandretti. Qualche rimpianto? No, la squadra che vince non si cambia, Alessandretti aveva giocato con la Civitano S, aveva vinto. No, ma per me non penso che oggi sia la colpa solo di un giocatore. Abbiamo giocato male tutti, non siamo mai entrati in partita, non abbiamo tirato fuori la personalità, c'era anche la possibilità di giocare perché non è che la San Benedettese ci aggredisse così alti. Abbiamo dimostrato poco carattere, loro sono stati più bravi, complimenti a loro, fa parte del percorso che ci serve da lezione e niente da dire. sulle partite da 5 a 0 che devi commentare. Mi dispiace molto, ripeto, soprattutto per la gente, però io sono convinto che quando uno cade, se vuoi un futuro devi vedere quello che serve per risollevarsi subito, piangere, non serve a niente. È finita la partita, adesso sono solo sceneggiate che non servono a niente, io devo pensare di risolvere i problemi, il perché di una debacle è così e basta, insomma, da martedì si pensa alla fermata. Per me il centrocampo, ma solo per me forse, è il reparto più forte, pure due palloni sanguinosi persi hanno permesso alla Sam di cambiare volta al match e di indirizzarlo in modo definitivo. Ma sai, una partita così, trovare un reparto che ha fatto bene fa difficoltà, non è giusto neanche, ripeto, incolpare qualcuno. No, qui siamo mancati in tutto, la colpa è solo di uno, perché il responsabile è solo uno. Io devo pensare che è la prima partita brutta da quando stiamo insieme, perché sia in Coppa Italia che in campionato i ragazzi hanno sempre risposto bene, eravamo andati sempre in vantaggio tram a Termoli e qui forse l'espulsione in priorità numerica ci ha condizionato un po' troppo, però, insomma, io non ho mai fatto tram nella mia vita, non mi sono esaltato dopo le vittorie, non faccio tram, io devo pensare a risolvere i problemi, a risolvere a trovare una quadratura, a recuperare i giocatori di personalità e di esperienza che stanno fuori, che hanno fatto meno preparazione, sicuramente trovare un'identità ben precisa che ancora fino a domenica pensavamo che qualcosa sia, adesso un po' oggi l'abbiamo persa. Martedì si va subito in campo, prima c'è bisogno di una chiacchierata tra le mura amiche, dentro lo spogliatoio. Dobbiamo parlare sempre, ripeto, io non sono il tipo che se perdi sono tutti somari, se vinci, questo è un gruppo eccezionale e lo ripeto, è normale che oggi è mancato di personalità, significa che ancora non gliela ha trasmessa, nella difficoltà siamo andati tutti in difficoltà e questo non è un buon segno, però qui ripeto, responsabile è solo uno e è quello che siccome hanno vinto i campionati, so come si fa, sono convinto che i ragazzi da martedì riprendono un cammino importante perché questa è una squadra che può giocare a calcio, non deve avere paura, quando con la paura si vive male, noi dobbiamo avere la personalità e il coraggio di giocare a calcio sempre, come facciamo durante la settimana, se riusciamo a capire questo, e allora se no rischiamo di far diventare fenomeni altre squadre.